Oddio, come eravamo antichi! Bacchette! Cosa? La schiaffino! La schiaffino! Grazie tante, signorina! Grazie, grazie, signorina! Ehi! Oh, ma è stupido! Avevamo delle vallette? No! No! Oh, ma! Io la testo! Gli italiani e la televisione, grafico-statistico! In Italia, su 100 teleabbonati, 20 hanno il televisore grande! 30 hanno il televisore piccolo! E 50 è il televisore spento! Il pubblico televisivo è così composto, il 60% di uomini adulti che guardano il programma dei ragazzi! Il 27% di ragazzi che guardano il programma degli adulti! Il 23% di camerieri che guardano tutto, anche il monoscopio! 98 italiani su 100 si sono disinteressati del concerto di prosa ideato da Giancarlo Sbragia ed Enrico Maria Salerno! Due invece se ne sono dichiarati entusiasti! Sì! Giancarlo Salerno ed Enrico Maria Sbragia! È giusto! Durante la trasmissione di Tele Europa, 3 spettatori su 100 vanno in visibilio! 4 su 100 vanno in sollucchero! E gli altri 93 vanno a letto! È statisticamente provato che nei 18 romanzi sceneggiati messi in onda dalla TV hanno lavorato 12 attori bravissimi, 46 attori bravi e Paolo Carlini Circa i programmi musicali si può asserire che sull'intera popolazione del paese 24 milioni ascoltano canzoni E i restanti 24 milioni? Le scrivono!